Un altro esame difficile per l'Empoli di Aurelio Andrea Zolli dopo la sconfitta di Misura, sabato scorso contro la capolista Juventus in casa dei Bianconeri, dove i Toscani hanno tutt'altro che sfigurato nel turno infrasettimanale alle ore 19 in casa al Castellani, sfiderà la numero due di massima serie, il Napoli di Carlo Ancelotti. Credo che noi siamo pronti a disputare anche questa così come abbiamo disputato quella di Torino e mi auguro di disputarla con lo stesso piglio, con la stessa intensità che abbiamo dimostrato al cospetto della Juventus. Rosa al completo per gli azzurri nell'ormai collaudato nuovo 3-5-2 che proverà a fare da anti-Napoli. Anche l'11 di partenza non dovrebbe regalare sorprese. Il viola in prestito Dragoschi tra i pali, il futuro Gigliato Traore, titolarissimo in mezzo al campo, a fianco di Crunic e Benassè, con Pasquale e di Lorenzo Esterri fluidificanti. Ovviamente tutti a sostegno del tandem d'attacco composto da Farias e da Mister 13 goal. Ciccio Caputo. Ma no, perché è impossibile. Se tu giochi male col Napoli è impossibile che tu possa vincere. È impossibile. È impossibile, a meno che non si ritirino dal campo. Quindi dobbiamo affrontare una squadra che ha dimostrato anche due giorni fa di essere in salute e avere una faretra piena di frecce importanti.